Musica Salve a tutti gente sono Caso90 e recuci qua Ovviamente su The Sims Comunque vediamo un po' bisogni Perché te ne devi andare a letto? Stando fisso a letto trastulli Minchia Annie fa schifo cazzo sta puzzando molto Annie vai a farti una bella doccia va Che lo sappiamo che puzzi Ci si vede Guardate un po' che sederino Guardate un po' che sederino che c'ha Annie Minchia è piatto Annie non mi stai più piacendo così I sederini piatti non mi piacciono Mi spiace Annie è un po' piatta in tutto Minchia guardate lì genere che schifo Puh guarda che schifo Che cacchio stai facendo Sta puzzando tantissimo Vai Annie fate una bella doccia O vai a baciare trastulli Lo ucciderai col puzzo sicuramente E mi sa che oggi con Annie usciamo anche Dove possiamo uscire vediamo un po' Vai oggi vi facciamo fare una bella gittarella Gittarella romantica Ed eccoli qua Uè guardate come corro Ok che si fa Ah guardate c'è il cosettino così Evocalame l'avvenenata Ma scusa gioca con Annie no Fermi tutti Allora chiedi di terminare l'appuntamento Buffo Fai una faccia buffa vai Che cacchio sta facendo Ma come fa Ma perché Ma perché mi fai questo Lancia un incantesimo Scarica di fuoco Minchia adesso L'ha fatto così tipo Vai vediamo il trastullino Che si cimenta nella pesca Mentre che Annie Spaventa i pesci tipo Vai Boh Ole Annie ammazza i pesci Tirandole le pietre Trastulli li pesca E questo è E il loro passatempo In questo momento Perfetto Guardate che bellezza Che cosa romantica proprio Annie pensa che Trastulli sia disponibile al flirt Ma se avete già trombato tre volte Ma che cacchio Romantica Abbraccia Farà fare fichi fichi In mezzo alla natura Spero di sì Signorina Annie Andiamo dentro l'acqua E facci E facciamolo Perché Non fa fare fichi fichi qua Che cacchio Perché sono venuto qua allora No ma Ma così Vi intrecciate tutto Aspetta Ma perché Cosa sta Cosa sta aumentando Scusami Con l'abilità di pesca Cosa aumenti Abilità Non ho idea Carisma Cucina Cucina non penso Boh vabbè Vediamo un po' Ma Annie riescono a pescare Anche il cibo Ole Annie ha pescato qualcosa Ma è minuscolo Che cacchio è That's what she said Oh Io penso Io penso Non so voi gente Che comunque sia Dovremmo anche Rivederci un po' Con Alice Visto che Trastulli Comunque sia è cattivo Penso di dovergli far fare Cose cattive Non ho più visto zombie Comunque sia Non ho capito perché Stiamo su The Sims Supernatural Ma non ci sono zombie Vabbè In modo malvagio Dai vai vai Su Trastulli Dai Trastulli Dai Trastullino Trastullino è velocissimo È fortissimo Vai a letto Trastullissimo Prepara la colazione Gaufre Frittale Oh Gaufre Perché sta sempre a leggere Cazzo Ti sei appena svegliata Vai a fare la Gaufre Fai un pasto veloce Armeggia Questa Armeggia Non ho ancora capito A che serve Ma non fa niente Ole vai Guardate quant'è brava Annie È tipo La più brava Minchia ha preso tutto E ci ha buttato lì dentro Anche il tagliere Ha messo Ole Dai a fare la Gaufre Però potresti preparare Anche la colazione A Trastulli Per quando si sveglia Quant'è che si sveglia Alle 13 Ok lì prepariamo il pranzo Direttamente a Trastulli Mi sa Che cacchio è successo Ma Annie Distrugge ogni volta Tutto cacchio Vabbè Ripariamo va E poi asciuga la pozza Oggi Annie diventa di nuovo Riparatrice di oggetti Vai via ragazzino di merda To stronzo Che cacchio fa ogni volta Sta nel sacco a fermo Vai ciao Cosa ti guardi Qua c'è Annie riparatutto Altro che Bob Stai scherzando Ole Ce l'abbiamo fatta Asciughiamo tutto Annie Vai Alla velocità della luce Famme acuta Si sta uccidendo dalla fame Trastullino Quindi facciamo una cosa Visto che sono quasi le 13 Si sveglierà Prepara spuntino Servi spuntino Gelatina di burro di arachidi Vai Annie Che tanto Annie deve potenziare La sua abilità di cucina Quindi faccio fare a lei per quello Eh guardate quanto è brava Spalmando burro di arachidi Ovunque Ole No trastullino Aspetta No 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 Non mangiare gli avanzi Si mangia questo Eh Prendi un piatto Prendi un piatto Eh lo butti a terra Scusami eh Questo ricicla va Ole Ora puoi mangiare va Grande trastullino Però tipo Non si è fatto niente Prendi un piatto vai Continua a mangiare Trastulli vai Boh Prendi un altro piatto vai Buona Ok Ti facciamo fare il record Di mangiata Trastulli Eh boh Annie si sta guardando Sta cosa Vescica Non ti stai pisciando niente Annie Vabbè spegnati Sta sempre a guardare I cartoni animati Non ho capito perché Però va bene così va Oh bravo trastullino Guarda come ritira tutto Bravissimo Trastullino è molto bravo In queste cose Annie si sta anche pisciando Di nuovo Quindi vai usa Trastulli tu che stai facendo Che cosa Ah ne stava andando Di traverso tutto Annie Oh poverina Guarda che bellina Trastullino purtroppo Ho un appuntamento Mi sa di no Oh si Vediamo un po' Carriera Atletica zero Autista di fuga Ok Vediamo un po' Atletica Condizione cattiva Sviluppando abilità atletica Il tussing potrà fare Maggiore progressi In questa carriera Ok Quindi Allenati dopo la doccia Vai Non ha senso Cioè mi sono fatto la doccia Per poi sudare Facciamo Fichi fichi con Annie Ah Annie piscia qua davanti A lui Romantico Flirta E flirta anche tu va Oddio Oddio Non riesce a farla scendere Che schifo Madonna Cosa hai mangiato Annie Che schifo Vabbè Comunque sia Vai Partiamo con trastulli Fare fichi fichi con trastulli Ovviamente Ora facciamo tutto Romantico Baccia Quando è che fa fare fichi fichi Non me lo ricordo Vabbè Bacciamo di nuovo E via Romantico Abbracciamo Revolmente Dai prima di andare a lavoro Trastulli No fichi fichi Che palle Ci mettono vent'anni Eeeh Massaggia Minca Vediamo se Annie Prende l'iniziativa Magari Fare stavolta Special Special No romantico Che di abbandonare La stregoneria Tu sei pazzo E amoreggia Buttati fra le braccia Annie è inguaribile e romantica Come si troveranno Molto incredibili Le sue proposte romantiche Ole Eh vabbè Voglio fare fichi fichi E basta Oh E che cacchio Ci voleva molto Ce l'abbiamo fatta Vai Ole Vai Perché si va a letto Grande trastulli Vai 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 trastulli 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 Oh What the fuck is Grande trastulli Bravo Bravi Bravi Ma già finito Ma no Ma perché ci mettete così poco Non lo so Io voglio restare ore a guardarvi Che cosa strana da dire E Nick si è appena divertita a fare fichi fichi Al letto Con trastulli Pigotti Un incontro romantico con un sim speciale È sempre un momento da ricordare Esatto Ok Eh gente Io direi che dopo aver fatto fichi fichi Trastulli Sei andato a letto Dormi fino a ricaricare le 19 Sono le 18 Stai dormendo 5 minuti Perché Ma guardate È scemo proprio Trastulli Madonna Comunque gente Direi che con questa immagine bellissima Io vi lascio così Spero che vi sia piaciuto l'episodio Mettete tanti mi piace Se così fosse Condivisioni Commenti Lo sapete già Cosa tutto dovete fare Ci si vede per se nuovo qua Su un'altra avventura Di The Sims Supernatural Bye bye